Ciao, in questa breve lezione voglio mostrarti un piccolo leak che ho ricavato da due arpeggi di due accordi. Ho pensato a una melodia che potesse avere due semplici accordi, quindi partendo da un mi minore e un do maggiore, che poi ho sviluppato per ottenere delle sonnalità un po' più particolari, insomma, di un semplice mi minore e un do maggiore. Allora ho provato ad utilizzare un mi sus due e invece di utilizzare l'accordo di do maggiore ho utilizzato un accordo di do sus due al quale poi ho aggiunto un la che è la sua sesta chiaramente, la sua tredicesima in questo caso e per rendere ancora il tutto meno usuale di un semplice arpeggio ho pensato di utilizzarlo con un tapping a due mani percussivo, che è una tecnica che mi piace moltissimo. Per fare questo lasciamo il petro e utilizziamo il mi sus due che in questo caso è questo qui. Il do sus due e il di. Questa era la mia melodia di partenza. A questa ho aggiunto sul mi sus due, quindi questo è un mi sus due, mi si e piocute. Al do sus due ho aggiunto un sol e un re più acuto e re la. Con il tapping a due mani ottengo questo risultato. poi ovviamente divertirti cercando altre combinazioni e quindi magari utilizzare il mi sus due mani ottengo il mi sus due mani ottengo questo risultato. A questo ho aggiunto il do per non renderlo banale come giro armonico, come se fosse una piccola bump e quindi in questo caso al mi aggiungerei il do sus con l'aggiunta della sesta che diventa Provo ad esercitarti anche tu cercando e scoprendo altre combinazioni che troverai per esempio sull'articolo sul mio sito, troverai un altro piccolo leak ricavato negli stessi semplici accordi